Uno spazio affascinante, 130 metri quadri, dove il pesarese Massimo Giannini ha collezionato negli anni ben 54 mila dischi. Una passione senza confini, quella per la musica, così grande che è stato lo stesso Giannini ad ammettere ai nostri microfoni che i soldi guadagnati nel corso della vita sono finiti tutti lì. Quei 54 mila dischi italiani ed esteri raccolti dal 1985 sono anche il frutto di tanti sacrifici e rinunce e in quei 130 metri quadrati ci sono anche dischi autografati da personaggi del calibro di Mina, Renato Zero, Fabrizio Di Andrè, solo per citarne alcuni. Questa edizione qui del 1996, se non sbaglio, dove abbiamo, praticamente è l'ultimo album di Fabrizio Di Andrè in vita, che mi ha autografato quando venne a Pesaro nel 98 e me lo autografò ed è un'edizione limitata a 3000 pezzi. Molto interessante ad esempio è questa edizione di Renato Zero, che è una versione promozionale, che è praticamente autografato chiaramente, dove se noi lo apriamo ritrae Renato Zero sedicenne ed è un'edizione praticamente limitata che era stata fatta per gli amici del Piper, diciamo. Anche questo è praticamente sempre un vinile autografato di Lucio Dalla, un altro disco autografato di Renato Zero del 1980 e poi per gran soddisfazione per i miei 50 anni ero riuscito a farmi autografare l'ultimo concerto di Mina del 1978. Un amore, quello per la musica italiana soprattutto, che Massimo ha coltivato fin da piccolo. Negli anni 80, quando mio padre mi comprò lo stereo, ho iniziato a comprare i dischi perché era una passione. La cosa mi entusiasmava e mi portava sempre più alla ricerca di avere sempre più dischi. Io non sono 54 mila e tra 45 giri, 33 giri, 78 giri che sono dei vinili che uscivano nel dopoguerra, diciamo. Ci sono dei più grandi esponenti della musica italiana, ma anche straniera chiaramente, perché io ho sempre avuto la passione più per la musica italiana, da cantanti come potevano essere Beniamino Gigli, Natalino Otto, il Quartetto Cetra, Domenico Modugno, Claudio Villa, Nilla Pizzi, Carla Boni. Oggi si tende appunto a scaricare da internet, invece collezionarsi, andare nel negozio di dischi, acquistare l'ultimo disco che è uscito, insomma. Era emozionante. Io mi ricordo negli anni 80, quando aspettavamo che si sapeva la data di uscita di un LP e noi ci presentavamo davanti al negozio di dischi per acquistare la prima copia, insomma. Era emozionante, secondo me. Oggi purtroppo si è perso completamente questa cosa. Hai mai pensato di magari aprire questa stanza magari in futuro anche, non so, a delle scuole, di iniziare anche a fare qualche collaborazione? Questa cosa ancora non mi è venuta in mente. Magari in un futuro, perché no?